Ciao ragazzi, sono sempre io, sono la vostra Irene e oggi vi porto con me nel primo campo prova che ho affrontato in modo sereno. Non pensavo potessi mai dire una frase del genere, ma l'ho detta. Come sapete per me il campo prova è sempre stato un tabù esagerato e vedermi in realtà affrontare questo campo in un modo così sereno e tranquillo veramente è come se avessi conosciuto una nuova parte di me. Come vedete Suri è un cavallo estremamente diverso da Q, in tutto e per tutto, sia come stazza, sia come temperamento, come qualsiasi cosa. Devo dire che per averlo da così poco mi trovo già a sentire una buona sintonia con lui. Se vedete anche il modo in cui mi avvicino agli ostacoli è un modo molto più morbido, molto meno rigido rispetto a con Q, con Q invece ero sempre molto molto tesa per ovvi motivi, come sapete. Quentin è uno stoppista steriale. Allora, commentiamo insieme questo mio primo giro. Ero molto emozionata, infatti ho aspettato per bene che ci annunciassero perché volevo sentire appunto come dicevano i nostri nomi insieme. Io sono un po' emotivo e malinconica, quindi queste cose me le porto proprio dentro con me. Creò un buon galoppo in avanti, era un filino lento a mio parere, poi riguardando il video me ne rendo conto. Infatti sull'uno secondo me aveva bisogno di uno sprint in più perché lo scavalca. Cerco comunque di non darmi per vinta, anche perché era solo l'uno. Quindi cerco di creare un buon galoppo, infatti sul due esco comodissima. Adesso devo andare sul tre, sul tre era un'oxere inspezzata e devo dire che me lo supera veramente facile, saltando anche piuttosto più grosso rispetto a quello che in realtà doveva saltare. Sul quattro sono stata sfortunata perché a mio parere la distanza era buona. Tocco col posteriore, di poco esco dalla spezzata in realtà rispettando tutti i tempi che erano stati prestabiliti in ricognizione. Faccio questa girata, mantengo il galoppo, entro benissimo in linea ed esco con una rimessa. Avrei dovuto o avanzare, togliere quel mezzotempo o rimettere per bene quel mezzotempo e farlo stare in più, però vabbè ci sta. Faccio questa girata, lo lascio scorrere, avevamo la gabbia e ricevo in sinistra. Avrei dovuto fare la seconda fase se avessi fatto zero e avrei dovuto girare a sinistra, quindi mi ero già preparata con la flessione, ma ero molto soddisfatta per essere il nostro primo giro. Ho veramente gestito in un modo sereno il percorso e soprattutto mi sono divertita, non è una cosa scontata. Allora adesso guardiamo il giro di mio fratello con Nuppino. Loro come vedete hanno affrontato lo stesso identico giro, come vedrete tra poco, ma un po' più alto. Infatti loro gareggiavano in B100, quindi creiamo un buon galoppo e cerchiamo di non ripetere gli errori del giorno prima, quindi sicuramente cerca di farlo avanzare di più. Devo dire che su tutti e tre i giorni il cavallo ha avanzato meno rispetto a come siamo abituati, quindi effettivamente mio fratello era piuttosto affaticato sul giro. L'1 lo supera veramente bene, come vedete anche rispetto a ieri il galoppo era completamente diverso. Il 2 è perfetto, distanza ottima e Uppi fa un saltone veramente bellissimo. Adesso si dirigono sul 3, vediamo come l'affrontano, un filo vicini ma Uppi salta veramente bene e non ci crederete mai, mio fratello siamo veramente identici, facciamo errore sul 4. Lui perché? Perché mette troppa mano, rallenta il cavallo, non era per nulla sulla redina esterna, quindi si è trovata a sbandare e si è perso, però l'uscita dalla spezzata era veramente ottima. L'entrata era un filo vicina anche qui, l'uscita era comoda, andava bene. Adesso dovrebbe esserci la parte finale, ossia la gabbia, come vedete non stringe niente perché tanto aveva già 8 penalità sarebbe stato inutile, lo fa entrare un pochino comodo e escono bene. Quindi io ritengo che rispetto al giorno prima abbiano montato molto molto meglio, abbiano fatto un giro molto più ordinato, sicuramente qualche errorino e purtroppo l'hanno pagato.